salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè per chi non lo sapesse oggi non ci sarà il tg del martedì perché per due settimane tratteremo solo processi facciamo una full immersion nei processi italiani internazionali anche continuando quelli al mondo di hollywood che hanno sconvolto l'opinione pubblica quindi facciamo un full immersion estivo quindi per festeggiare diciamo la l'inizio di questa rubrica estiva taggatemi se volete su instagram fate appunto una foto al video fatevi una foto col video fatevi una foto voi quello che volete taggatemi su instagram qui c'è il mio contatto così iniziamo questo full immersion con la carica perché i casi sono sempre tragici e ci vuole la carica vediamo se riesco a far uscire tre video a settimana o ne farò uscire due perché come potete capire i processi sono molto lunghi c'è un sacco di roba da preparare quindi non so se riuscirò a fare tre video a settimana o se ne farò due siccome non so dirvelo vi do due alternative la prima è chiaramente quella di iscrivervi e attivare la campanella la seconda alternativa è di seguirmi su instagram perché comunque li ve lo dico ve lo annuncio quindi gli appuntamenti fissi saranno martedì e giovedì alle 14 quello del sabato in dubbio vi faccio sapere nel caso non dovessi riuscirci magari questa rubrica la facciamo durare un po di più di due settimane tutto in corso d'opera ragazzi è estate quindi rilassiamoci come ci va ci va facciamo praticamente prima di cominciare volevo ringraziare sergio per l'animazione della sigla ci tenevo tantissimo a ringraziarlo e vi lascio qui sotto i contatti youtube e instagram di sergio perché è stato un piacere lavorare con lui è stato gentilissimo io ho fatto delle richieste e lui le ha soddisfatte così senza proprio mandarmi a quel paese quindi io lo ringrazio tantissimo e vi lascio sotto tutti i contatti adesso non perdiamoci in chiacchiere perché oggi parliamo del processo anzi dei processi ai ciontoli la famiglia ciontoli di ladispoli dichiarati colpevoli per omicidio volontario di marco bannini questo è un caso che ha avuto una rilevanza nazionale altissima per l'atrocità di quello che è successo quindi oggi ne parleremo quindi noi attraverso ripercorreremo i fatti attraverso il processo ciò che dice l'accusa ciò che dice la difesa per cercare di chiarire quali possano essere state le dinamiche di questa faccenda quindi come sapete come sapete il mio tipo di racconto non è puramente a livello di crime nel senso di questo è successo questo è successo questo noi ripercorriamo la vicenda attraverso il processo le testimonianze processuali e le indagini che poi hanno portato la formazione del caso per l'accusa quindi cominciamo marco bannini muore alle 3 e un quarto del 18 maggio 2015 per questa morte devono rispondere di omidio volontario antonio ciontoli maria pezzillo federico ciontoli martina ciontoli e viola giorgini vediamo subito qual è la teoria dell'accusa che è alla base diciamo di tutto il processo quindi la vicenda ha inizio alla dispoli nella villetta familiare della famiglia ciontoli dove praticamente antonio ciontoli spalla a marco bannini ma come diciamo ha stabilito l'accusa le dinamiche di questo avvenimento a detta dell'accusa antonio ciontoli entra in bagno dove marco bannini appunto si trovava gli spara involontariamente un colpo di pistola che lo colpisce al braccio destro quindi arrivano federico e martina in bagno aiutano il padre a portare marco nella camera da letto di martina e a stenderlo sul letto e da lì sarebbe partita una copertura per salvare antonio ciontoli e la sua carriera ritardando i soccorsi dell'ambulanza di oltre un'ora che costeranno la vita a marco dunque quindi qual è l'accusa e l'accusa è omicidio volontario come principale responsabile antonio ciontoli e con la collaborazione di tutti i membri della sua famiglia e di omissione di soccorso per quanto riguarda viola giorgini che è la ragazza di federico quindi quello che l'accusa e la difesa hanno in comune che entrambi dicono che antonio ciontoli ha sparato a marco vannini involontariamente quindi se la cosa si fosse fermata lì per rendere chiara questo per rendere chiaro questo punto se la cosa si fosse fermata lì cioè antonio ciontoli spara a marco vannini per errore chiamano subito i soccorsi marco si salva poteva essere appunto considerato un incidente involontario quindi diciamo un incidente colposo ma quello di cui sono di cui accusata tutta la famiglia è che una volta resosi conto del disastro e del fatto che siccome antonio ciontoli era un sotto ufficiale della marina militare in un reparto distaccato dei servizi segreti questo incidente avrebbe potuto costargli il posto e la carriera quindi la famiglia in accordo con antonio ciontoli decide di coprire tutta la situazione di aspettare a chiamare i soccorsi per vedere insomma se riuscivano a trovare un piano per giustificare la situazione quindi ritardando i soccorsi non è stato possibile salvare marco vannini cioè se i soccorsi fossero stati chiamati subito secondo l'accusa marco si sarebbe salvato ma siccome loro hanno aspettato più di un'ora marco è morto perché non ha ricevuto le cure tempestive ed è qui che sta l'omitidio volontario di tutta la famiglia con la ragazza di federico che invece è accusata di omissione di soccorso quindi adesso che sappiamo la teoria dell'accusa cerchiamo di rivercorrere i fatti attraverso le testimonianze e cercare di capire come si è arrivato a ben tre verdetti diversi l'uno dall'altro perché ci sono stati tutti e tre i gradi di appello quindi vediamo un pochino allora partiamo dalla sera del 17 maggio 2015 che cosa è successo la madre marina la madre di marco conferma che il figlio alle 11 chiama il padre per dirgli che sarebbe rimasto a dormire a casa della ragazza nella villetta dei ciontoli a ladispoli valerio il padre di marco conferma questa cosa ha ricevuto la chiamata intorno alle 23 ma dopo mezzanotte i genitori di marco vengono svegliati da una telefonata era maria pezzillo la moglie di antonio ciontoli quindi madre di martina e federico che chiama marina dicendogli che federico è caduto dalle scale e che quindi doveva andare quindi marina si veste mentre si veste maria richiama e dice guarda però non devi venire a casa devi venire all'ospedale perché marco è stato portato in ospedale dall'ambulanza quindi ci vediamo direttamente all'ospedale al pronto soccorso quindi marina e valerio vanno direttamente al pronto soccorso due infermieri come vedremo dopo che hanno soccorso marco confermano che lui era ancora semi cosciente a tratti anche all'arrivo al pronto soccorso che non riusciva bene a spiegarsi perché prevalentemente si lamentava e urlava per il dolore il medico del pronto soccorso che insomma si è occupato di marco ha raccontato che antonio ciontoli a un certo punto suona al campanello del pronto soccorso dicendo che era stato lui a far partire un colpo che poi ha colpito marco che quindi quello che aveva detto all'inizio che poi vedremo dopo che lui era caduto su un pettine non era vero ma gli chiede di far rimanere la cosa segreta quindi di non alimentare le notizie il medico insomma lo guarda e dice infatti dice proprio la testimonianza io sono rimasto sconvolto da quella richiesta cioè praticamente gli aveva chiesto di farsi i cavoli propri gli ho chiuso solo la porta in faccia sono tornato a soccorrere sono tornato a soccorrere il ragazzo quindi la prima informazione che abbiamo è che al momento in cui marco è arrivato al pronto soccorso è anche il primo momento in cui antonio ciontoli racconta effettivamente quello che è successo perché prima durante le chiamate precedenti al pronto soccorso e anche quando sono arrivati i barellieri poi lo vediamo non avrà ma non racconterà mai questa versione cioè del fatto che lui abbia sparato ma racconterà un'altra serie di incidenti il che rallenterà la tempestività dei soccorsi adesso lo vediamo quindi lui suona al pronto soccorso dice sì gli ho sparato io sono un carabiniere per favore mantenga la cosa con discrezione quindi al momento che antonio ciontoli racconta la verità i genitori arrivano al pronto soccorso e sono fuori con maria pezzilli che non dice nulla a quel punto arriva federico e federico racconta ai genitori quello che è successo cioè che è partito un colpo dalla pistola del padre che ha colpito marco però i ciontoli diranno che il colpo ha sfiorato marco che quindi non c'era da preoccuparsi tant'è che marina dice io ho visto questa donna maria davanti a me accendersi una sigaretta guardarmi e dirmi marco sta bene mio marito perderà la carriera perderà il lavoro quindi già qui abbiamo un primo sentore di quello che dice l'accusa cioè il fatto che l'unica preoccupazione della famiglia non era la salute del ragazzo ma era il fatto che antonio ciontoli potesse perdere il lavoro perché lui appunto essendo un carabiniere ha utilizzato un'arma non di servizio fuori per di più davanti a un ragazzo è partito un colpo e quindi insomma la situazione che era chiaro insomma che avrebbe avuto sarebbe stato licenziato sospeso dall'arma quindi questa l'accusa dice la loro unica preoccupazione è stata questa ma andiamo avanti un quarto d'ora dopo arrivano anche con la macchina martina e viola quindi martina si reca che la ragazza di marco appunto si reca da dalla mamma da marina e gli dice guarda stai tranquilla è tutto a posto non è successo niente andrà tutto bene che succede però quindi viene chiamato però l'elitrasporto e marco vannini viene trasportato d'urgenza i gemelli di roma il ospedale gemelli di roma il problema è che all'ospedale non ci arriverà mai perché muore sull'aereo per arresto cardiaco quindi insomma l'elicottero torna di nuovo sulla pista di ladispoli prova a non fargli una rianimazione di una settantina di minuti ma senza successo quindi viene dichiarato il decesso di marco intorno alle tre e mezza di notte ma come ci siamo arrivati al pronto soccorso con marco che ha un colpo di pistola dentro il corpo sparato da antonio ciontoli che racconta solo in quel momento per la prima volta al pronto quando marco era già pronto soccorso quello che è successo davvero quindi ripercorriamo gli eventi con tutte le testimonianze perché come vedremo ci sono delle cose più chiare e delle cose molto meno chiare cominciamo dall'inizio quindi abbiamo detto che marco si ferma a dormire a casa della sua ragazza martina con tutta la famiglia ciontoli che era lì a casa antonio ciontoli parte la sua inizia la sua testimonianza dicendo che la pistola che ha fatto partire il colpo che ha sparato a marco era una pistola che lui non usava dal 2007 che stava ricacciando perché domenica doveva andare aveva delle prove di tiro e che quindi gli serviva quindi lui l'ha presa dalla cassaforte perché ne aveva due in cassaforte dentro un marsubio grigio l'ha presa e si è messa in bagno a pulirla sua moglie lo chiama gli dice di scendere quindi praticamente lui mette questo marsupio dentro la scarpiera in bagno verso le 11 e 30 si ricorda che quelle due che insomma che la scarpiera con le due pistole non erano dove dovevano essere cioè dentro una cassaforte al sicuro ma che le aveva lasciate in bagno quindi ritorna verso il bagno quando arriva al bagno si rende conto che dentro al bagno ci sono marco che si sta facendo la doccia e sua figlia martina che si trovava vicino al lavandino quindi loro erano dentro al bagno quindi lui bussa per chiedere se poteva entrare a prendere insomma questo marsupio marco gli dice di sì e quando apre la porta in quel momento martina esce e lui entra ora già qui c'è una contraddizione perché l'accusa e la difesa sostengono due cose completamente diverse cioè l'accusa dice non è possibile che tu sia entrato in bagno mentre il ragazzo di tua figlia si stava facendo la doccia è un po strano in più non solo si stava facendo la doccia ma poi vi siete anche messi a parlare e tu gli hai fatto vedere la pistola mentre lui era nella doccia nudo il che pare strano tant'è che sua madre la madre di marco conferma dicendo che marco era un tipo molto vergognoso cioè era un tipo vergognoso e molto timido tant'è che non si faceva vedere neanche dai genitori quindi non si fa vedere da noi figurati se si fa vedere dal dal suo suocero praticamente nudo mentre si fa la doccia è un contesto stranissimo quindi infatti la cosa strana dici che non solo tu sei entrato magari lui aveva la tenda chiusa sei entrato l'hai preso al volo che già è strano ma non solo marco ti avrebbe visto con addetta di di antonio ciontoli marco l'avrebbe visto con il marsupio grigio in mano riconoscendo che era il marsupio dove teneva le pistole lo ha fermato e gli ha detto fammi vedere le pistole fammela prendere in mano fammela prendere in mano e antonio gli avrebbe detto guarda no te la faccio vedere in mano mia quindi la presa convinta che fosse scarica la caricata ha premuto il grilletto ed è partito un colpo quindi tutta la dinamica appunto è strana perché la madre come suo padre come anche suo cugino che lo conosce che ha testimoniato sostengono che marco era un tipo molto riservato e non si sarebbe mai messo nudo a parlare con suo suocero dentro al bagno mentre martina la sua fidanzata sventisce questa cosa perché dice no no noi eravamo talmente tanto uniti che lui spesso capitava che si faceva la doccia da noi e che mio padre entrava senza nessun tipo di problema la difesa infatti qua cerca di giustificare questa cosa strana di questa conversazione in bagno da cui poi è partito tutto dicendo che può capitare che nel quando una persona insomma in un nucleo familiare si comporta in un modo quindi nel suo era vergognoso poi nell'altro si fa assorbire molto forzata questa cosa diciamola comunque dalle dinamiche familiari dell'altro insomma dell'altro nucleo familiare che quindi possa cambiare le sue abitudini e siccome aveva un rapporto molto stretto sia con martina sia con antonio allora lui non si faceva problemi a far entrare antonio quando lui era in bagno sotto la doccia ma anche questo rapporto stretto tra martina antonio e marco viene messo in discussione dall'accusa questo perché perché la la difesa dice sì perché lui era talmente aveva talmente voglia di vedere queste questo varsupio queste armi che ha fermato subito ciontoli antonio mentre se ne stava andando perché lui era un grande appassionato il cugino smentisce questa cosa dice perché loro sono cresciuti lui e marco in una famiglia molto piccola quindi erano cugini sì però con un rapporto molto stretto uscivano anche insieme quindi lui dice marco non era assolutamente un fissato per le armi lui aveva il porto d'armi perché voleva entrare voleva fare il suo sogno era fare il pilota nell'aeronautica quindi aveva preso il porto d'armi per guadagnare dei punti ma non aveva nessuna fissa per le armi aveva anche il punto il brevetto di salvataggio del bagnino insomma i brevetti di sicurezza tutto ciò che potesse far guadagnare punti a marco quando provava insomma a fare i concorsi dei militari sua madre infatti conferma dice io non gli ho manco mai comprato una pistola giocattolo quando era bambino figuriamoci se adesso lui mentre era nudo in doccia fermava suo suocero per chiedergli di fargli vedere le armi quindi questa cosa secondo appunto l'accusa non sta in piedi inoltre qui marina la mamma di marco nella sua testimonianza racconta un fatto dice che antonio ciontoli benché lui si facesse diciamo portavoce di marco per quanto riguarda la sua carriera diceva lo voleva lui diceva sempre a parole che voleva aiutare marco a entrare appunto insomma voleva dargli una mano per il concorso per i vari concorsi insomma che doveva fare per provare a diventare pilota della marina militare ha provato un giorno ad aiutarlo per quanto riguarda un concorso del vfp1 ora che cosa è successo questi concorsi appunto militari chiaramente richiedono analisi prove fisiche analisi per vedere insomma se le tracce di stupefacenti eccetera eccetera no quindi praticamente ciontoli antonio ha detto vabbè ti aiuto io a cercare insomma a fare questa domanda a compilare questa domanda la domenica cioè il concorso era martedì la domenica si rendono conto che mancano delle analisi quindi la madre marina fa il miracolo e riesce a far fare di domenica le analisi al figlio perché le mamme quando si mettono in testa una cosa ce la fanno sempre arrivano al giorno di martedì del concorso e praticamente marco a un certo punto chiama sua madre piangendo dicendo che non ha potuto fare il concorso perché delle analisi erano scadute ed erano proprio quelle per insomma per rilevare insomma se avesse fatto uso di sostanze no e sua madre dice ma scusa perché non te le hanno fatte fare lì che comunque ce le potevi fare al volo e insomma lui ha detto ci ho provato ma ci ha parlato antonio ci ha provato antonio ma a quanto pare non ha funzionato e quindi poi marco quando è tornato a casa ha confessato alla madre dicendole che probabilmente era stato sabotato perché ma antonio ciontoli non voleva aiutare marco perché martina non voleva che marco partisse per fare il militare infatti ultimamente anche martina e marco avevano avuto un sacco di problemi litigavano molto proprio perché lui perché martina non voleva che lui se ne andasse quindi a detta della madre il rapporto con martina e con antonio ciontoli per lo meno dal punto di vista del figlio si era già allogorato nell'ultimo periodo proprio perché aveva paura che antonio in realtà non lo stesse aiutando per sabotarlo e che martina comunque lo stava ostacolando nel suo sogno tant'è in più non sopportava neanche tanto federico perché diceva che lui era proprio il cocco di casa quello che quello che diceva lui si faceva insomma era il numero uno di casa il maschio di casa quindi in realtà non era così unito a quella famiglia soprattutto nell'ultimo periodo tant'è che una ventina di giorni prima dell'accaduto e addirittura lui aveva litigato con antonio ciontoli così forte che antonio ciontoli l'aveva cacciato di casa e lui per diversi giorni non è più andato a casa loro quindi anche qui l'accusa dice non è vero che sono così uniti quindi perché marco avrebbe dovuto far entrare suo suocero in bagno e anche questa dinamica infatti non è ben chiara e non sarà mai ben chiarita ma qui spunta un'altra cosa spunta un'altra cosa che sarà alla base sia della teoria dell'accusa che della teoria della difesa dei ciontoli ma con interpretazioni diverse allora che succede? Antonio ciontoli lavora come abbiamo detto in una sede di staccata dei servizi segreti ma lui si occupa di cancelleria e amministrazione il che significa che lavora in ufficio il che significa che non ha bisogno delle armi cioè delle pistole insomma che non utilizza armi durante il suo servizio infatti antonio ciontoli addirittura ha il porto d'armi scaduto perché proprio non c'è bisogno insomma che lui utilizzi queste armi all'interno del proprio lavoro ma lui aveva detto a marco di lavorare invece sul campo quindi non in ufficio sul campo dell'operazione contro gli terroristi quindi antiterroristica degli araba quindi un po' come se lui fosse un agente segreto capito in realtà era un carabiniere in ufficio qui partono le due teorie il fatto tutte basate sul fatto che antonio ciontoli non sappia minimamente utilizzare una pistola secondo l'accusa perché antonio ciontoli dice io pensavo che la pistola fosse scarica per quello è partito il colpo cioè ho fatto così ti sparo non ti sparo e insomma mi è partito il colpo come ho premuto il grilletto e pensavo fosse questo fantomatico colpo d'aria che adesso vi spiego che questo colpo d'aria non esiste non è assolutamente nulla in balistica non esiste ma andiamo per ordine l'accusa dice tu sei un inetto ad utilizzare le armi non sei capace quindi è chiaro che nel momento in cui hai preso l'arma e hai sparato ti sei comunque reso subito conto del problema e quindi poi con la tua famiglia avete occultato tutto infatti l'accusa dice il fatto che tu non sapessi che era partito il colpo non sta in piedi perché e qui cercherò di spiegarvelo semplicemente se c'è qualche esperto mi scuso per la mia descrizione ma che succede quando tu devi caricare una pistola immaginatevi che quindi questa è la parte no quindi quando tu come vedete nei film la caricano fanno così che la tirano indietro tirano indietro il pezzo quando tu tiri il pezzo indietro si apre una finestrella che ti fa vedere se effettivamente c'è il colpo in canna perché chiaramente se no tu come fai a saperlo quindi tu lo vedi quindi come fai così e poi lo rimetti così si vede che c'è e qui Antonio Ciontoli dice che non l'aveva visto e infatti qua il perito balistico del pubblico ministero dice è impossibile non vederlo perché te lo ritrovi davanti anche il più scemo lo sa quindi già questo non sta in piedi in più questo colpo d'aria non esiste cioè lui dice io non mi sono reso conto della gravità della situazione pensavo che Marco gli fosse venuto un attacco di panico perché ha sentito il rumore quindi quindi è partito questo colpo d'aria perché la pistola era scarica quindi non è partito niente c'era questo colpo d'aria che ha portato a diciamo a Marco a spaventarsi e quindi ad avere un attacco di panico io non avevo capito la gravità del problema ora a livello balistico come mi è stato confermato da molti di voi grazie mille su Instagram perché ho fatto questa domanda è che a livello balistico non esiste il colpo d'aria cioè il colpo d'aria c'è nelle pistole a salve cioè quelle che usano nei film avete presente quando premete fanno lo stesso rumore di una pistola vera ma in realtà non esiste perché è l'aria appunto perché è finta questa cosa non succede nelle pistole vere perché nelle pistole vere se non c'è il proiettile al massimo non spara mentre Antonio Ciondo gli dice che si era probabilmente lui pensava si fosse creata una bolla d'aria dentro l'arma che una volta che lui ha premuto questa bolla d'aria abbia fatto sì che si ricreasse lo stesso rumore di come se ci fosse un proiettile vero e che questo colpo d'aria l'abbia ferito ora il problema è questo che questa cosa non esiste però qui la difesa dice lui l'ha pensato perché è un inetto cioè è incapace ad utilizzare le armi quindi lui fondamentalmente non lo sapeva e pensava che fosse successo questo e quindi il fatto che non si sia reso conto della gravità della situazione è dato dal fatto proprio che lui le armi non le sa usare ora già questo ci dovrebbe comunque far capire insomma che in Italia diamo queste licenze così a caso eventualmente evidentemente quindi perché la difesa insiste su questa incapacità di ciontoli perché lui poi dirà tutta la sua famiglia continuerà a dire fino a che Federico non troverà il bossolo in bagno che è stato questo fantomatico colpo d'aria e quindi non è vero che è partito un colpo ma che è soltanto Marco che si è agitato e che quindi diciamo la difesa dice vedi è stato la famiglia non è intervenuto subito perché ciontoli gli ha detto così e ciontoli gli ha detto così perché lui non lo sapeva cioè non si era reso conto che era partito veramente un il bossolo perché lui non non se ne intende di armi quindi non l'aveva capito cioè questa è la teoria della difesa per cercare di svincolare la malafede di tutti cioè allora dico loro hanno agito normalmente perché non si erano proprio resi conto della situazione ma questo non significa che lo hanno fatto apposta insomma in malafede mentre l'accusa dice no no c'è tutto allo scarrellamento cioè lo scarrellamento sarebbe appunto quando fai così il proiettile l'avevi visto quindi l'accusa non dice che Marco che non dice che Antonio Ciontoli lo abbia colpito di proposito cioè su questo sono d'accordo entrambi anche l'accusa dice noi non diciamo che lei lo ha colpito di proposito infatti per noi quel gesto è stato involontario quello che è stato volontario è tutto quello che ne è conseguito dopo quel suo comportamento è quello della famiglia che hanno ritardato i soccorsi di più di un'ora e che quindi sono costati la vita a Marco quindi siamo arrivati al punto in cui Ciontoli gli viene imputata una condotta negligente che avrebbe portato un incidente involontario a omicidio volontario per poi aver trascinato appunto in questa cosa tutta la sua famiglia ovvero la sua famiglia secondo l'accusa consapevole di quello che era successo quindi perché gli altri membri della famiglia sono stati imputati lo vediamo subito quindi Martina Ciontoli racconta che dopo cena Marco voleva farsi una doccia quindi per quello Marco era in doccia quando è arrivato quando è entrato Antonio Ciontoli voleva farsi una doccia perché aveva fatto il bagnino durante il giorno quindi si voleva dare una lavata quindi sono andati in camera insieme lui si è spogliato è andato al bagno e Martina l'ha seguito in quel momento ha bussato il padre Marco gli ha detto ok vieni entra lei è uscita e il padre è entrato dopodiché lei è rientrata al bagno nel momento in cui ha sentito il colpo cioè lei sente questo strano rumore e torna subito in bagno stessa cosa Federico che si trovava con Viola nel letto a guardare un film quando sente il colpo 15-20 secondi dopo Federico esce dalla sua camera e va direttamente al bagno a capire quello che è successo quindi entra prima Martina e subito dopo entra Federico Martina nota subito le pistole in bagno per terra stessa cosa Federico quindi chiedono al padre che cosa è successo il padre dice è partito questo fantomatico colpo d'aria la pistola era scarica Marco si è agitato gli è venuto il panico e quindi si è sentito male perciò praticamente insieme lo portano in camera di Martina e lo allungano sul letto quindi praticamente lo portano dicono in spalla perché Marco era ancora cosciente e poteva camminare quindi Federico racconta che il padre continua anche in camera a dire questa cosa a dire no è soltanto un attacco di panico non gli è successo niente non gli è successo niente e ordina Federico di togliere le pistole dal bagno e di riporle in un posto sicuro quindi Federico fa quello che gli dice il padre va a prendere le pistole e le porta via Martina in quel momento vede sul braccio di Marco sul braccio destro qui una ferita che però dice no gli ho dato importanza perché non sanguinava sembrava una bruciatura di sigaretta era una ferita chiusa che sembrava quindi più che un buco un segno quindi che lei ma anche la sua famiglia non si è preoccupata proprio per il fatto che non ci fossero tracce di sangue che quindi avevano creduto tutti quanti alla versione del padre del fatto che fosse partito questo benetto colpo dare è che Federico si stava sentendo male quindi a detta loro infatti c'era Antonio che gli alzava le gambe Viola che gli era andato a prendere acqua e zucchero Martina che era seduta accanto a lui che gli diceva amore amore tutto bene tutto bene in tutto questo la famiglia testimonia che Marco non si stava neanche lamentando che quindi loro non hanno capito la gravità della situazione come ho detto fino ad adesso è qui che si basa la difesa cioè il fatto che in realtà loro non è che hanno chiamato i soccorsi un'ora dopo perché volevano proteggere Antonio Ciontoli ma perché non avevano proprio capito la gravità della situazione che quindi hanno preso la cosa un po' sotto gamba che quindi non c'è la malafede dietro le loro azioni ma c'è solo l'ingenuità di chi non aveva capito niente cosa che chiaramente vedremo verrà smentita diverse volte da diversi testimoni quindi praticamente Marco muore e l'autopsia però rivela una cosa che adesso ve la leggo perché non voglio sbagliare scusate ma non essendo un medico i termini tecnici insomma sono difficili il medico dell'autopsia dice che il proiettile è entrato da destra a sinistra dall'alto in basso più inclinato verso la parte di dietro andando viaggiando verso una traiettoria in avanti quindi il proiettile viaggia attraversa la pleura fino al pericardio cioè la membrana praticamente che sta intorno al cuore la trapassa e entra nel setto intraventricolare attraversa la parte più bassa del cuore quindi con questo percorso il proiettile non ha preso nessun punto letale del cuore cioè se avesse preso un punto importante del cuore sarebbe morto di arresto cardiaco quindi soccorsi o meno non l'avrebbero potuto salvare ma il medico dell'autopsia dice non ha preso punti vitali del cuore quindi se i soccorsi fossero arrivati in tempo Marco si sarebbe salvato quindi questo perché dice la prova della morte di Marco la causa della morte di Marco è uno shock emorragico e non cardiaco cioè è morto perché ha perso troppo sangue e questo va già in contrasto con quello anche che dice la famiglia Ciontoli che dice noi non abbiamo visto sangue Marco non si lamentava quindi pensavamo che avesse avuto un attacco di panico un colpo di calore che un pochino svenisse per questo che noi non ci siamo preoccupati e non abbiamo chiamato i soccorsi ma la preoccupazione c'era perché Federico alle 23.41 fa la prima chiamata al 118 Buonasera mi devo urgentemente in un'ambulanza alla Vispoli che succede? C'è un ragazzo che si è sentito male di botte e diventato troppo bianco non respira più respira male si dice? respira male si che cosa ha fatto questo ragazzo? non glielo so spiegare bene beh ci provi anche se non me lo sai spiegare bene per cortesia no no ha spiegato qualcosa? ha bevuto? soffre di qualche grave malattia di base? no non soffre di niente probabilmente è uno scherzo si è spaventato tantissimo e non respira più che scherzo gli avete fatto? eh non lo so io non c'era in quel momento le sto dicendo e chi ne sa allora che è stato uno scherzo? chi glielo ha detto? è che sta con mio padre e mia madre siamo in famiglia per favore noi ci stiamo prendendo in famiglia no no mi passi il suo padre per favore mamma se io gli dici tu per favore non ci crede? si lo ha detto no 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 non capisco la dinamica uno si spaventa e si sente così male stava facendo il bagno a un ragazzo stava nella vasca si è ripreso? stava facendo il bagno stava nella vasca è entrato? non serve? vabbè nel caso ti chiamiamo grazie quindi Martina dice che nel momento in cui nella chiamata si sente no tutto a posto si è ripreso si è ripreso era perché si era rialzato sul letto e il padre aveva detto no no si è ripreso puoi attaccare tutti quanti confermeranno che si sono fidati di quello che ha detto Antonio perché quello che vuole fare tutta la famiglia è dare la responsabilità ad Antonio e loro scaggionarsi dicendo noi pendevamo dalle sue labbra perché era lui che aveva affrontato sta cosa cioè aveva visto tutto quanto quindi noi ci fidavamo di quello che ci diceva lui ma secondo l'accusa dice no 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 voi l'avete capito e come e vi siete tutti messi d'accordo per coprire Antonio ed è per questo che ci avete messo un'ora a chiamare i soccorsi questo perché l'accusa dice voi eravate tutti presenti lì vi siete subito resi conto di quello che è successo altrimenti non avreste chiamato il 118 tutte queste volte se veramente non eravate agitati dalla situazione ma avete fatto finta di pendere dalle labbra di credere a quello che diceva Antonio Ciontoli proprio perché sapevate che altrimenti lui ci andava di mezzo soprattutto per quanto riguarda la sua carriera quindi siete stati tutti quanti zitti questo sarebbe provato sia dalle varie chiamate al 118 sia anche dal fatto dello stesso Federico che Federico aveva fatto una scuola militare quindi Federico avendo fatto una scuola militare nel momento in cui vedeva due pistole per terra sentiva sicuramente l'odore della polvere da sparo perché si sente la pistola è anche calda insomma tutte cose che una persona che ne sa avrebbe capito e soprattutto la persona che ne sa sa che non esiste nessun colpo d'aria nelle pistole vere non a salve ma quindi che cosa è successo in quell'ora che va dalle 11 e un quarto a mezzanotte e 10 che poi è arrivata l'ambulanza perché in quell'ora che cosa è successo in quell'ora detta di Martina appunto loro non ci hanno capito niente questo perché? perché il padre gli aveva detto non è successo niente è partito il suo colpo d'aria Marco non si lamentava non c'era sangue in giro l'unica cosa era questa bruciatura di sigaretta ma qui ci sono diverse cose che smentiscono la versione della prima è che sui pantaloncini di Marco su quelli di Antonio Ciontoli e sulla canotta di Martina sono state trovate tracce matiche cioè tracce di sangue il che significa che la ferita in realtà aveva sanguinato tant'è che nella prima deposizione Antonio Ciontoli aveva detto che aveva premuto la ferita per cercare di bloccare il sangue con insistenza per cercare di fermare la fuoriuscita mentre durante il processo ha detto che ha malapena poggiato la mano perché non serviva anzi che in realtà gli ha sciacquato la ferita un po' in doccia e da lì non ha sanguinato più per quello non si sono resi conto di quanto fosse grave la situazione seconda cosa Marco era vigile era sveglio nonostante nessuno di loro si ricordasse che cosa stava dicendo ma era vigile era sveglio e che assolutamente non urlava ogni tanto faceva qualche lamentino di fastidio l'hanno chiamato ma qui intervengono i vicini perché la testimonianza dei vicini sarà fondamentale perché ben tre vicini testimonieranno di aver sentito Marco urlare la prima è appunto è la vicina di casa che sente il colpo che dice che sembrava come un rumore il rumore di un vaso di cristallo che si rompe quindi io sono scesa sotto da mia figlia chiedendoli se aveva sentito questo rumore sua figlia testimonia il processo e dice io non avevo sentito il rumore perché la televisione era alta però sia io che mia mamma e testimonieranno entrambe abbiamo cominciato a sentire la voce di un ragazzo che urlava disperato la madre che era anche un'infermiera cioè questa vicina di casa che appunto era un'infermiera ha detto ha riconosciuto perfettamente le grida di dolore e la figlia dirà poi che le grida di dolore erano sì ad intermittenza ma lui Marco ha urlato quasi tutto il tempo la stessa cosa confermerà un altro vicino ha detto non ho sentito il colpo ma io ho cominciato a sentire le urla disperate di un ragazzo queste urla saranno poi fatte sentire anche al processo con le registrazioni delle chiamate al 118 perché di registrazioni chiamate al 118 ce ne sono diverse in tutte queste si sente sotto Marco che urla tant'è che in una registrazione in particolare l'ultima quella che poi farà arrivare l'ambulanza perché appunto la chiamata che poi porterà l'ambulanza che è quella fatta da Antonio Ciontoli si sente Marco che urla come un disperato e anche in quell'occasione Antonio Ciontoli non racconta la verità perché dice che Marco è caduto su un pettine appunto e che si è fatto male tant'è che l'operatrice sentendo quelle urla disumane dice ma il ragazzo ha problemi di salute mentale nel senso una persona magari che ha problemi di salute mentale e non era riuscito a capire che era caduto solo su un pettine e quindi si era agitato particolarmente lui dice no no assolutamente però che venite qui che insomma che c'è l'ambulanza ma vediamo due cose da questa chiamata uno che cosa ha portato alla fine Ciontoli a richiedere l'ambulanza perché prima nelle altre chiamate dicevano no va bene nel caso vi teniamo aggiornati vi richiamiamo nell'ultima dice no no mi serve l'ambulanza il fatto che Federico verso mezzanotte stanco della situazione testimonia di essere tornato in bagno per cercare di capire quello che stava succedendo quindi Federico torna in bagno e trova il bossolo lì per terra quindi torna in camera confermato da Viola la sua fidanzata e dice pa la situazione è grave gli hai sparato dobbiamo chiamare l'ambulanza ed è lì che Antonio Ciontoli richiama il problema è che non avendo detto subito la verità se tu cadi su un pettine hai codice verde se tu ti becchi un colpo di pistola hai il codice rosso e chiaramente tra codice verde e codice rosso le tempistiche e le manovre sono completamente differenti il che significa che anche quando è arrivata l'ambulanza sono arrivati in tranquillità gli infermieri e i barellisti i barellieri che dicono vabbè tanto figurati che cosa vuoi che si sia fatto quindi a questo punto infatti prima di sentire i testimoni i due barellieri i due infermieri che sono andati a casa a prendere Marco l'accusa fa uscire le registrazioni ambientali nella caserma di polizia perché che succede che praticamente dopo appunto i ciontoli mentre Marco è all'ospedale vanno in caserma vengono portati in caserma e praticamente mentre Antonio e Maria sono dentro con il commissario i tre ragazzi Martina Viola e Federico sono seduti sul divanetto non sapendo di essere registrati infatti si vengono a sapere diverse cose cioè Martina dice un qualcosa di strano perché dice era destino ho visto lui quando papà gli ha puntato la pistola dicendogli la vedi la vedi ti sparo e poi lui ha detto è uno scherzo e Marco ha detto non si scherza così ed è diventato pallido quindi lei ha detto ha dichiarato di aver visto il padre con la pistola in mano quando lei in realtà ha dichiarato di essere arrivata dopo il colpo e già qui è un'altra stranezza Martina vaneggerà un pochino cioè durante questa testimonianza dice io intendevo dire che mi ero fatta spiegare da mio padre quello che era successo e quindi quando ho detto ho visto lui volevo dire mio padre mi ha detto però siccome ero spaventata e tutto ho cominciato a vaneggiare e a delirare però si contraddice diciamo quindi tornando agli infermieri che arrivano praticamente arrivano questi due infermieri e anche lì di nuovo Antonio Cionto gli dice è caduto su un pettine appuntito e si è fatto male gli è venuta questa crisi di panico anche lì non dicono quello che è successo nonostante tutti a quel punto perché Federico aveva anche trovato il boss lo sapessero che in realtà era stato sparato un colpo quindi anche gli infermieri dicono effettivamente la ferita non sanguinava era una ferita chiusa e sembrava effettivamente una bruciatura di sigaretta quindi nel momento in cui lui ci ha detto è caduto su un pettine noi non ci siamo preoccupati abbiamo rallentato anche la situazione quindi abbiamo cercato di medicargli la ferita di farlo riprendere però lui continuava a lamentarsi per il dolore e un'infermiera dice quando gli ho chiesto dove sentisse male lui ha detto dappertutto quindi praticamente lo portiamo in ospedale e nel momento in cui arriviamo al pronto soccorso è lì che Antonio Cionto gli suona e dice guardate che gli ho sparato ed è lì che poi la situazione cambia ma anche fino al tragetto in ospedale l'ambulanza era ancora in codice verde quindi anche lì c'è stato un ritardo dei soccorsi proprio perché Antonio Cionto non aveva parlato chiaro con la collaborazione della famiglia perché neanche la famiglia davanti a tutti quegli infermieri ha detto qualcosa Martina si giustifica dicendo che era stato il padre a parlare con gli infermieri quindi che tutta la famiglia avesse dato per scontato che lui avesse raccontato la verità ma questa cosa viene smentita dalla stessa infermiera perché la stessa infermiera dice no no cioè io ho parlato con Antonio Cionto ma la figlia era accanto a lui quindi sicuramente ha sentito a noi nessuno ci ha detto effettivamente quello che era successo quindi noi siamo andati in ospedale con calma ma sempre dalle intercettazioni ambientali fatte in caserma diciamo l'accusa si è resa conto che i Cionto li sapevano già quello che era successo ancora prima che lo dicesse il padre perché appunto da queste intercettazioni si sente sempre che dicono ah si l'ho sentito che diceva così si l'ho visto che diceva così e addirittura si tradiscono perché Martina e tutto il resto della famiglia confermerà che il maresciallo Izzo che era un amico del padre praticamente quando sono arrivati al pronto soccorso Antonio ha chiamato il maresciallo Izzo gli ha detto devi venire qui perché è successo un macello quindi vieni il maresciallo Izzo è arrivato ha purato la situazione e si è portato i ciotoli in caserma quindi i ciotoli hanno detto che è stato il maresciallo Izzo che è stato il maresciallo Izzo a dirgli appunto che Marco era deceduto e a spiegargli esattamente che il proiettile gli aveva perforato il cuore e che quindi aveva causato tutto questo disastro che era partito dal braccio destro ed era arrivato fino a dentro al petto il maresciallo Izzo dice io non ho detto proprio niente cioè lui dice io li ho portati in caserma li ho avvertiti che Marco era morto ma nel momento in cui è morto nessuno sapeva effettivamente come fosse morto quindi è uscito dopo con l'autopsia qualche giorno dopo quindi come ho fatto io a dire a loro che Marco era stato colpito da un proiettile perché appunto loro nelle registrazioni ambientali dicono ah sì questo è stato il proiettile io ho visto che è partito quindi loro hanno cercato di dire no no noi perché lo sapevamo perché ce l'aveva detto il maresciallo Izzo ma in realtà il maresciallo Izzo dice io non ho proprio detto niente perché manco io lo sapevo quindi figurati se in quel momento potevo dire una cosa del genere quindi siamo arrivati alla fine della ricostruzione nel senso che rifacendo una teoria dell'accusa e della difesa l'accusa dice che in quel momento Marco Vannini si trovava in bagno con la sua fidanzata ed era sotto la doccia che anche qui ci sono delle stranezze però diamola per buona Antonio Ciontoli bussa chiede di poter entrare Marco gli dice di sì questo perché si doveva riprendere le pistole che aveva lasciato nella scarpiera del bagno quindi al momento in cui apre la porta Martina esce e rimangono Antonio Ciontoli e Marco Vannini dentro al bagno quindi Antonio prende dalla scarpiera questo marsupio Marco riconosce che quel marsupio contiene le pistole e chiede a Ciontoli di fargliele vedere di fargliela usare Ciontoli gli dice no non te la faccio tenere in mano però se vuoi la vedi dalla mano mia convinta che fosse scarica o comunque insomma con un atteggiamento di negligenza parte un colpo cioè praticamente gli punta la pistola e spara e parte questo colpo nel momento in cui parte questo colpo lui realizza quindi si fa aiutare da Martina e Federico che intanto sono arrivati lo portano in camera arriva tutta la famiglia lui Antonio Ciontoli non dice effettivamente quello che è successo dice che è partito questo fantomatico colpo d'aria e che quindi lui si è spaventato ma la famiglia vedendo la ferita vedendo il sangue e vedendo le pistole per terra si rende conto già di quello che è successo ma fa finta di niente perché sanno che se raccontano la verità il loro padre perderà il lavoro quindi stanno zitti e tutta questa complicità quindi passerà un'ora prima dell'arrivo dei soccorsi proprio perché stavano cercando un modo di mascherare la cosa per evitare che Ciontoli perdesse il lavoro quindi hanno sacrificato la vita di un ragazzo per il lavoro di Ciontoli questa è la la teoria dell'accusa mentre la difesa dice no no siamo d'accordo fino al momento dello sparo poi portano Marco di là ma la ferita non si vede non c'è sangue quindi come anche hanno provato a cercare di far confermare da un medico che hanno chiamato dicendo che dato che non ha colpito e qui se c'è qualche medico che mi può confermare che dice che questo medico legale della difesa dice che siccome il proiettile è entrato dal braccio e poi ha fatto questa traiettoria e se non colpisci arterie o vene non è detto che la cosa sanguini io questa non la so questa cosa quindi se c'è un medico tra di voi mi faccia sapere sotto nei commenti se è plausibile come teoria quindi la difesa dice non essendoci tracce di sangue Marco non si lamentava stava bene era vigile e tutto non si sono resi conto della gravità della situazione e quindi pensavano che gli fosse venuto solo un attacco di panico Ciontoli sapeva che era partito il colpo la famiglia non lo sapeva ma anche Ciontoli pensava che magari il colpo fosse che appunto fosse stato questo colpo d'aria che non era sicuro che fosse partito veramente il proiettile non avendo tracce di sangue e niente non si sono resi conto e pensavano che fosse un attacco di panico da parte di Marco e che al massimo Antonio Ciontoli pensava che il proiettile lo aveva preso di sfuggita e che quindi con una piccola operazione chirurgica si sarebbe concluso tutto e che quindi insomma la situazione è stata presa molto alla leggera proprio per questo motivo ed è per questo che non hanno chiamato subito i soccorsi perché pensavano che non fosse niente di grave queste sono le due teorie diciamo che la domanda che ci poniamo è questa se Marco se i Ciontoli avessero chiamato i soccorsi immediatamente Marco sarebbe ancora vivo secondo il consulente del pubblico ministero dice assolutamente sì proprio perché dall'autopsia come dicevamo prima è stato rivelato che il proiettile non ha preso fonti vitali parti del cuore essenziali e vitali altrimenti sarebbe morto di arresto cardiaco essendo morto per sanguinamento praticamente in realtà se i soccorsi fossero arrivati subito sarebbero diciamo si sarebbe si sarebbe potuto salvare e sulla base di questo che in primo grado il PM chiede 21 anni per Antonio Ciontoli Federico Martina e Maria 14 anni di reclusione tutti e 4 per omicidio volontario mentre Viola Giorgini 2 anni di reclusione per concorso per mancato soccorso per omissione di soccorso la prima corte d'assisi di Roma quindi il primo grado di giudizio da ad Antonio 14 anni di reclusione mentre il resto della famiglia con le varie attuenuanti gli danno 3 anni di reclusione mentre Viola Giorgini viene scagionata si va all'appello all'appello succede una cosa a mio parere assurda quindi diciamo che appunto nel primo grado lui è stato ritenuto Antonio Ciontoli il primo responsabile gli altri hanno collaborato quindi si va al processo d'appello perché chiaramente non si è soddisfatti della pena per quanto riguarda soprattutto gli altri membri della famiglia che si sono presi 3 anni di reclusione che con buona condotta e tutti gli attuenanti del caso se si facevano 6 mesi era una prova quindi si va in appello in appello succede una cosa scandalosa perché addirittura i giudici ribaltano la sentenza del primo grado e danno ad Antonio Ciontoli solo 5 anni di reclusione e lasciano invariate la pena per il resto dei membri della famiglia con un risarcimento ai genitori di Marco di 4.800 euro per la morte del figlio cioè quindi loro pensano che sia stato un sia stato tutto involontario che fosse un omicidio involontario da parte di tutti i ciotoli quindi praticamente Antonio Ciontoli si becca 5 anni e basta quindi da 14 si passa a 5 con il risarcimento di 4.800 euro alla famiglia cioè io quando ho visto la reazione della madre lì mi si è spezzato il cuore per fortuna il 3 maggio del 2021 la corte suprema insomma la corte di Cassazione ha riconosciuto Antonio Ciontoli colpevole per omicidio volontario e gli ha dato 14 anni di reclusione mentre sua moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina dovranno scontare 9 anni e 4 mesi per non aver chiesto subito soccorso quindi hanno ritenuto che tutti fossero colpevoli di omicidio volontario e questa storia finalmente si è chiusa quindi ce l'abbiamo fatta non so per quanto tempo ho parlato è stato è stato un caso duro io penso che l'abbiate seguito più o meno tutti nel corso degli anni ne hanno parlato tantissimo questi poveri genitori durante il corso del processo addirittura a un certo punto Antonio Ciontoli si mette a piangere e così cioè perché parlava a un certo punto scoppia in questo pianto disperato che mi stava venendo uno schifo ragazzi poi quando ho visto la faccia dei genitori di Marco come guardavano lui mi si è proprio spezzato il cuore cioè è stato è stato un processo veramente difficile da ricostruire perché è stato molto emotivo la tragicità di un povero ragazzo di 20 anni che è morto in questa condizione sapendo che poteva anche sopravvivere cioè quindi lui è andato a casa di persone fidate che gli hanno voltato le spalle per motivi personali e lo hanno praticamente lasciato a morire condannato a morte quindi questa è una storia veramente veramente assurda davvero in più la giustizia si vedono le falle del sistema italiano le falle della giustizia che in secondo grado addirittura avevano completamente ribaltato la prima insomma e tra insomma un giudizio e l'altro sono passati sette anni quindi insomma non è che stiamo parlando di veramente tre mesi questi sono sette anni in cui una famiglia ha cercato di avere giustizia finalmente per fortuna ce l'abbiamo fatta ma è stata dura quindi ragazzi io vi ringrazio per essere stati con me ci vediamo giovedì per un prossimo caso e vi faccio sapere se ce la facciamo anche sabato però nel caso voi seguitemi su instagram così non vi perdete gli ultimi aggiornamenti vi auguro un buon martedì ci vediamo giovedì e quindi ciao